Il Senato passa la maggioranza, una vittoria, abbiamo detto appunto vince la Boschia, nel senso che il disegno di legge ha il suo nome, passa la linea del governo, abbiamo visto qualche numero in meno, certo non sono stati ancora dimenticati i momenti davvero imbarazzanti vissuti al Senato con appunto anche un bruttissimo gesto fatto a un senatore, a una senatore donna del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro abbiamo anche un ospite del Movimento 5 Stelle oggi con noi, proprio un senatore da Venezia, lo saluto Gianni Girotto, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Saluto anche a Roma il collega Fabrizio Rizzi, grazie per essere con noi, ciao Fabrizio e l'onorevole Ileana Piazzoni del Partito Democratico. Allora, io parto da Gianni Girotto, senatore Movimento 5 Stelle, anche perché è difficile tante volte avervi ospite, quindi però direi al di là di questo aspetto farei giusto un passo indietro anche per chiudere questa situazione, nel senso che se ne è parlato il gesto fatto nei confronti di un vostro senatore, forse diciamo al di là, oltre al gesto anche le scuse che sono arrivate, o meglio non le scuse, le giustificazioni che sono arrivate dopo non sono state esattamente delle scuse, ecco per, mi perdoni il gioco di parole. Sì, effettivamente non si è scusato, però mi permetta di dire due parole anche sul servizio precedente, perché ero qui in studio, l'ho visto anch'io sulla gravissima situazione meteorologica in Francia, è giusto fare vedere le immagini di quello che sta succedendo a livello climatico, ma bisogna ripetere continuamente, spiegare a tutti i cittadini che questi eventi saranno sempre più frequenti, e saranno sempre più frequenti perché noi stiamo immettendo in atmosfera quantità enormi spropositate di energia, di energia da fonte fossile e questa è la conseguenza, stiamo rovinando un delicatissimo equilibrio appunto meteorologico. Ora per risolvere questi problemi tutti sanno che dobbiamo smettere di consumare energia fossile e passare a energie rinnovabili. La cosa interessante dal punto di vista lavorativo, perché noi in Italia la priorità è il lavoro, non è la riforma del Senato, che noi siamo leader in moltissimi settori tecnologici appunto sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, quindi questo ci consentirebbe di diventare, di prendere la testa di un treno che è già partito in tutto il mondo, che è appunto quello delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che è necessario per salvaguardare il clima e impedire nuovi di questi disastrosi episodi che continueranno a imperversare in tutto il mondo se non cambiamo decisamente strategia. Quindi noi abbiamo la possibilità di creare 350.000 posti di lavoro nel settore del riassetto idrogeologico in Italia, abbiamo 11.000 interventi che sono previsti dai vari PAI, i piani di assetto idrogeologico in Italia, dalle regioni, di questi 11.000 ne sono partiti solo 600, sono stati programmati 1.700, solo 600 sono partiti, solo il 4% di questi 11.000 interventi è stato ripristinato. Abbiamo la possibilità di creare 500.000 posti di lavoro solo sull'efficienza energetica in Italia, ma soprattutto abbiamo il dovere di perseguire queste strade perché saranno il futuro tecnologico in tutto il mondo. Viceversa questo governo sta deprimendo queste strade con molte normative poste in essere in questa legislazione. Per cui al di là della riforma del Senato, la vera riforma che va fatta è quella sul mercato del lavoro nel senso di prendere le nuove tecnologie. Basta con la petrolchimica, basta con la cementificazione selvaggia che ha rovinato il territorio, possiamo creare centinaia di miliardi di posti di lavoro con la chimica verde, con il riassetto idrogeologico, con l'efficientamento energetico degli edifici che in questo momento sprecano mediamente il 60% dell'energia che immettiamo. E in questa maniera salvaguardiamo il clima e creiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ecco, quindi diciamo il governo, da questo quanto dice, bravo magari a utilizzare i nuovi social network, meno bravo a modernizzarsi dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista proprio dell'economia del nostro paese. Però vorrei anche andare da Eleana Piazzoni, del Partito Democratico, tornando alla riforma del Senato, doverosa anche la precisazione che ha fatto anche Gianni Girotto, giusto anche estendere il discorso al di là degli affari, della politica, diciamo così, che a volte magari anche da casa possono sembrare piccole beghe. Però al di là di questo, Eleana Piazzoni, i numeri di questo articolo 2 abbiamo sottolineato anche nel nostro servizio, qualche voto in meno, viene molto sottolineato al di là di tutto anche l'apporto dei verdiniani, qualcuno dice ce n'era bisogno, non ce n'era bisogno. Cosa dice lei? Ma guardi, innanzitutto contesto i dati che sono stati forniti dal Senatore relativamente a quella che è l'opera del Governo in questo settore. Ovviamente se volete possiamo dilungarci a lungo su questo e credo che sia anche giusto rispetto a quello che è successo. Non abbiamo molto tempo, però magari... Però ovviamente, come dire, poi anche io posso fare un comizio su un argomento a piacere, vorrei attenermi alle sue domande e quindi di conseguenza le rispondo subito, che è quello che riguarda i numeri. Mi pare che sia evidente il fatto che ci sia un'ampia maggioranza che ha votato questi primi articoli della riforma e, evidentemente da quello che dicevano tutti, che non ci sarebbero stati i numeri, abbiamo dimostrato che la riforma invece è possibile approvarla e spero che nei prossimi giorni si possa anche procedere celermente. La polemica relativamente a quelli che sono i numeri mancanti è un artificio, insomma un esercizio abbastanza che lascia il tempo che trova. Il Partito Democratico è stato comunque unito in questa votazione ed è quello che conta perché chiaramente immagino quale sarebbe stata la polemica sia a questo punto e se i voti determinanti per approvare la riforma fossero venuti da altre forze politiche, a prescindere da qualunque fossero, chiaramente il problema è che la spaccatura del Partito avrebbe portato in una situazione molto difficile. Questa spaccatura fortunatamente non c'è stata per il grande impegno da parte di tutti a trovare un punto di equilibrio. Certo, Fabrizio, al di là di tutto abbiamo parlato di questa trattata proprio dei verdiniani, è arrivato questo gesto nei confronti del senatore del Movimento 5 Stelle, però quello che conta sottolineare è che comunque il governo, diciamo in un gergo calcistico, oggi una domenica si gioca il campionato, è 2-0 per il governo effettivamente così o secondo te da qui al 13 ottobre, quando il governo vorrebbe appunto approvare questa riforma, l'opposizione potrebbe segnare un gol? Dunque, no, io non credo assolutamente che l'opposizione possa segnare un gol. Trovo invece stamattina nelle parole del Ministro Boschi che ha fatto questa intervista alla stampa, un'ingenerosa gratitudine verso Verdini, che è stato quello che ha veramente fatto girare la fortuna alle spalle di Renzi, cioè ha cavalcato la fortuna, volevo dire questo, ma soprattutto vedo che c'è anche ingenerosità verso Verdini che ha dato il suo forte contributo come era nelle attese e soprattutto dice Verdini non faremo neanche l'alleanza elettorale, questo mi sembrano cose abbastanza normali ed è cambiata la maggioranza da parte, il forno della maggioranza di Renzi che è andato a prelevare i voti da Verdini anziché nel partito NCD che già rumoreggia in vista dei futuri appuntamenti, soprattutto sulla legge dell'Unione Civile che non le vuole votare. Ecco, tornando da Gianni e Girotto, al di là di tutto magari entriamo anche nel merito di questa riforma, abbiamo avuto anche altri ospiti del Movimento 5 Stelle che ci hanno sottolineato determinati aspetti, andiamo nel dettaglio, nel senso 100 nuovi senatori, continueranno a chiamare senatori, però ricordiamolo, saranno, voi dite, dei nominati, addirittura, dite anche per politici che potranno godere dell'immunità parlamentare anche se sono magari esponenti di enti locali e per la prima volta avremo dei sindaci magari che se sono colpiti, investiti da un'inchiesta possono, diciamo, avere questo tipo di scudo. Sì, certamente, questo è uno dei pericoli della riforma, cioè che verranno molto probabilmente selezionate persone che hanno pericolo di essere indagate, di essere coinvolte in processi, che gli verrà data la carica di senatore in modo di godere dell'immunità parlamentare. Però, mi perdoni, io vorrei semplificare al massimo. Cioè, qualsiasi sia la riforma che passerà, qualsiasi sia la forma strutturale che vogliamo dare al Parlamento, monocamerale, bicamerale, qualsiasi cosa, questo non cambierà una virgola, e vorrei dirlo chiaro a tondo agli italiani, perché il problema non è tanto la forma, la struttura del Parlamento, Il problema è che da 30 anni, da 40 anni, abbiamo una politica che è completamente ammanigliata con i poteri finanziari, con i poteri industriali, e lo dimostrano le vere riforme che si sono fatte in questa legislatura. Le vere riforme che interessano agli italiani sono, per esempio, quello in campo petrolifero, dove il governo ha fatto lo sblocca trivelle, andando a sollevare l'ira di 10 regioni che questa settimana si sono presentate in corti di Cassazione per proporre un referendum abrogativo dello sblocca trivelle, che è un favore alle lobby dei petrolieri, e molte di queste regioni sono a guida PD. Un'altra riforma che sta facendo il governo è quella sulla tariffa della bolletta elettrica. Gli italiani non lo sanno, ma 20 milioni di loro, 20 milioni di italiani, l'anno prossimo, dal 1 gennaio, pagheranno di più la corrente elettrica e pagherà di più chi consumerà di meno, cioè la fascia bassa, i pensionati, i single, le coppie a basso reddito pagheranno di più la corrente elettrica, vi stanno sfilando i soldi dal portafoglio senza che ve ne accorgiate. La riforma vera che va fatta è quella del sistema finanziario, che dal 2008 a oggi non presta più denaro, non presta più denaro al mondo reale. Sono queste le cose che interessano i cittadini. Dal 2008 a oggi noi abbiamo prestato come Europa 4 mila miliardi di euro alle banche private, soldi pubblici che ci hanno messo in situazioni di debito, è da lì che ha aumentato in maniera insostenibile il debito. L'Italia paga dai 65 ai 80 miliardi all'anno solo di interesse al debito. Attenzione, questa è la tecnica che viene usata molto banalmente dagli usurai nei confronti delle loro vittime. Ecco, Girona, allora devo... anche perché abbiamo due minuti... Sì, no, mi faccio solo concludere. La tecnica è molto semplice. Parlando di usurai devo anche dare la possibilità di replicare. Prego, prego, finisca. Poi andiamo dalle anatezioni. La tecnica è molto semplice. Tenere il debitore sempre con la corda al collo non permettergli mai di estinguere realmente il debito perché è quello che consente al creditore di continuare a guadagnare solo gli interessi. Ripeto, sono 65-80 miliardi che paghiamo all'anno e la vera riforma che va fatta è quella del mercato finanziario che non presta più denaro al mercato reale pur avendono ricevuto quantità impressionanti, l'ho detto, 4 mila miliardi e adesso abbiamo un quantitative easing che nel corso dei prossimi 19 mesi prestarà ulteriori 1.100 miliardi di euro Allora, onorevole Piazzoni cosa replica quanto dice Girotto? Ma cosa vuole che replichi? Tutto quello che dice Girotto è semplicemente falso. Se vuole prendo la persona che ho incontrato al bar qui fuori e faccio intervenire e vedere se può inventare qualcosa di altrettanto suggestivo. Non avremmo neanche più spazio. Guardi, io mi appello anche al suo ruolo di giornalista perché ci deve essere un limite al fatto che si possa andare in televisione ad affermare cose completamente false e nessuno interrompe per dire che siamo proprio su un altro pianeta. Quindi prendo atto devo dire con molta serenità e anche allegria il fatto che la riforma costituzionale non è più un problema visto che è stato gridato al colpo di Stato ogni 5 minuti negli ultimi tempi adesso scopro che tanto è inutile perché qualunque cosa noi facciamo non cambierà assolutamente nulla fino a ieri si diceva che con questa riforma succedeva il disastro totale allora io credo che noi dovremmo veramente un pochino imparare ad attenerci a quella che è la realtà ci possono essere opinioni diverse ma quello che non è ammissibile è ridurre la politica semplicemente al fatto che chiunque si alza la mattina può dire cose totalmente false senza che ci sia veramente la possibilità di confrontarsi sul merito reale di come sono le cose in questo mondo lo dico anche perché anche tutta la polemica che sta accadendo in questi giorni io condanno senza se senza mai il senatore Barani per quello che ha fatto e spero che verranno presi dei provvedimenti molto seri però aggiungo anche una cosa qual è la ragione lo chiedo veramente a lei come giornalista tutta la categoria per cui questo fa notizia e invece il fatto che io come tutti i miei colleghi passiamo tutto il giorno tutti i giorni in un'aula a ricevere insulti di ogni tipo non fa nessuna notizia il fatto che Laura Boldrini e Maria Elena Boschi vengano messe al centro di attacchi di ogni tipo altro che sessisti la Boldrini è stata anche minacciata e tutto questo non c'è mai stato una voce che si è elevata con la stessa veemenza di questi giorni ecco questa doppia morale non è più sopportabile il fatto che si sia ridotto l'aula parlamentare le aule parlamentari veramente in un luogo in cui è difficile stare per una persona normale perché non si può più tollerare il fatto di non essere nella condizione di avere la propria dignità perché lei capisce che non è possibile per un parlamentare di maggioranza intervenire ogni due minuti interrompendo il lavoro parlamentare perché noi non siamo lì per distruggere il paese ma per cercare di fare leggi che lo possano cambiare per mandarlo avanti quindi il problema è come si fa come si mette fine a questo disastro anche culturale le posso fare un esempio io posso lanciare in questo momento un tweet di critica nei confronti di Grillo e del Movimento 5 Stelle posso mettere a disposizione di tutti l'esempio chiaro per cui io verrò sommersa nel giro di mezz'ora da migliaia di messaggi di minaccia e insulto da parte di account poco chiari che non hanno nemmeno nome e cognome tutto questo è normale tutto questo è il modo di fare politica questo è il modo di cambiare questo paese non per tutta la categoria dei giornalisti rispondono appena per me stesso quindi si figuri però purtroppo è vero che inevitabilmente i social forse andrebbero anche usati in maniera particolare perché purtroppo si viene sommersi anche non solo i politici in generale diciamo è un luogo dove c'è poco o poco può essere evidenziato quando in aula succedono episodi terribili tutto il giorno tutti i giorni ecco io questo vi chiedo di mettere veramente in evidenza il fatto che c'è ormai uno scadimento totale questo viene fatto soprattutto da parte di una specifica forza politica che è il Movimento 5 Stelle credo che questo sia necessario per il bene di tutti e per provare a ritornare a fare politica in maniera seria va bene io accolgo quello che dice l'onorevole Piazzoni chiaramente l'onorevole Girotto ha espresso la sua opinione il senatore Girotto ha espresso la sua opinione poi chiaramente anche il senatore Girotto non può rispondere di tutti i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle che scrivono sui social io saluto entrambi farei giusto chiudere a Fabrizio Rizzi Fabrizio proprio velocemente che siamo in chiusura conosci bene i tempi televisivi diciamo che comunque ecco forse gli sta dilineando questa doppia questa situazione la vera opposizione del PD al Movimento 5 Stelle e forse Italia in questo momento un po' in cerca d'autore ecco sì c'è stata questa ricompensa politica per un aiuto in Senato che vede vede NCD un alleato del governo fortemente all'opposizione quindi come andrà avanti come si risolverà questa contraddizione è più politica è un nodo politico che Renzi deve assolutamente non può pensare di tenere il Verdini chiuso in una stanza senza parlare senza dire nulla da qui ai prossimi appuntamenti perché Verdini non va bene non può entrare nel giardino dei democratici e invece questa nei prossimi giorni c'è questo il voto sulle coppie civili che veramente può essere una una svolta chiaro chiaro allora dipende dipende se l'NCD vuole davvero rompere oppure io non credo vedremo vedremo allora Fabrizio Rizzi ringrazio il collega Fabrizio Rizzi giornalista ringrazio ancora lo dicevo prima il senatore Girotto da Venezia e l'onorevole Piazzoni del Partito Democratico per essere stati con noi ci rivediamo dopo la pubblicità grazie